Il nome del nuovo ente di garanzia sarà la rete FIDI Liguria ed è la confluenza di tutti gli sistemi di garanzia e imprese, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e della cooperazione della Liguria. È un processo di semplificazione unico in Italia e penso che cercheremo in tutti i modi e maniera di migliorare le condizioni di accesso al credito avendo rinforzato la nostra struttura patrimoniale grazie anche alla forte volontà regionale manifestata in questo senso. È un atto importante che vede concluderci un cammino che è stato un cammino lungo. Io voglio anche ringraziare le associazioni di categoria, tutti quelli che ci hanno messo buona volontà, ci hanno messo tempo, ci hanno messo condivisione di un progetto. Oggi la firma è importante perché andiamo a un processo di fusione delle strutture, delle cooperative di garanzia e andiamo a rafforzare il sistema dei confidi sul territorio regionale. Creiamo una struttura che ha una forte patrimonializzazione, creiamo una struttura che è moderna, creiamo una struttura che meglio potrà rispondere in futuro a quelle che sono le esigenze di accesso al credito da parte del nostro sistema delle imprese. Sappiamo che la crisi morde, la crisi è difficile, sappiamo che uno dei temi che le imprese si pongono oggi con maggiore drammaticità è appunto il tema dell'accesso al credito che sta vedendo una stretta particolarmente sensibile, particolarmente consistente. Oggi noi mettiamo a Regione, Filse, associazioni di categoria e sistemi dei confidi con questo atto di fusione a disposizione delle imprese uno strumento più forte, più patrimonializzato, maggiormente in grado di affrontare quelle che sono anche le nuove normative del sistema bancario e crediamo di aver fatto un percorso che si chiude positivamente nell'interesse del nostro sistema delle imprese.